musica andiamo se non mi chiudete la porti vai, rambo style dai e questo è il salvataggio, andiamo sto già morendo io non morrei ti ma arriverai? ahahah aprista po ecco eccolo e mando mondai a mille colpi la k tank e charger vabbè lasciamo andare, tutto dritto per la campagna ma sto facendo fatto il girotondo che bello quella c'è una festa eh mi ha preso il charger ah no era il boomerang c'è una festa noto adesso hey i'm reloading ho già spawn e kill cercate cercate nelle case se se c'è qualcosa tipo medicinario no 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 dove è lo splitter muore grazie per avermi grazie Alice per avermi dato le pillole mentre stavo sparando ahah 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 basta si charger di merda ostia perfetto io ci finisco sempre in bocca a sto charger sarà anche stupido ma perchè ti vuole bene si esatto ma che cazzo vuoi te siamo arrivati comunque mi sembra sì siamo arrivati ci manca il salvataggio ci manca è ancora lunga la strada no vai l'ultimo posto luca adesso poi dobbiamo aspettare che arriva il codice dobbiamo arrivare dall'altra parte però ahi peluche si ok andiamo oh mert c'hanno zombie strano c'è coach oh gesù son crash out son crash out dai rientro ti aspettiamo per attivare per attivare l'allare aspetta stiamo qui fermi in atti eh vabbè se ne sono accorti sono andate a cagare adesso mi diverto oh quella 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 sono me a muori ferro può ho connesso dall'italia grazie bene ragazzi bene ragazzi andiamo giù andiamo giù venite giù che inizia la parte divertente adesso oh e adesso se riesco a trovare una scaletta per scendere buttati buttati che morbido infatti mi son rotto metà gambe merda nel male che c'è il medikit qua ok di qua cosa c'è? nulla bene chi è che c'è? c'è qualcosa per terra le munizioni ah ma va la ex munizioni armi pronti? pronti? ok corretti indietro beh ferro attivano 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 ok adesso arrivano indietro c'è loro da finale con tanto di con tanto di tank joker split non ho tanti tank tanti c'è è vero? quanti ce n'erano qui? due? minimo chiurico la porta aspetta che siano entrati gli altri non è che la sfondano la porta e cadono dal tetto vabbè lasciate l'aperto io provo a coprire dal tetto si del tetto dalla porta no non ce la faccio in troppi buchi dai ostia zambi che si arrampicano sull'aria chi quel mona che chiuda la porta no no ragazzi ho bisogno di una bomba qua sotto ma le bombe c'erano di sotto mi sono dimenticato ma non ho neanche visto io le bombe mh mh merda meh quanti ce ne so una mazza da baseball subito fuori campo no aspettate c'è una monotov c'è una monotov no c'è una monotov qui c'è una monotov qui c'è il tank come il tank a qualche parte era a qualche parte ma il tank riesce a venire su dalle scale eh si riesce anche a infilarsi in mezzo tra un muro e un treno vero? zitto tra un muro e un treno eh l'hai visto l'ultimo episodio di Left 4 Dead? si ma non tutto l'ho visto a pezzettone ma va alla fine mi sa che ce l'ha con me infatti se l'ha presa se l'ha presa con voi ti aspettate è morto? oh si danno 5000 ti aspettate ci siete? c'è un altro tank una volta che c'è sto rumore no no smoker smoker oh oh mamma mia tutti tossici tutti tossici tutti tossici tutti tossici tutti tossici tutti no vabbè lo splitter qui no che bastard ecco ringrazio cane merda sono un coglione si sono coglione contro tutti nelle sale d'attesa questo è salito il tank no eh io invece sono morto perchè sono deficiente mi sono una cosa la notte mi sono buttato allegramente tra le braccia degli zoni merda charger son calutti ma il charger è il tank senza una mano si e con dieci volte meno di vita ho guardato uguale quanto ci vuole hosti no arriva da tutte le parti devo curarmi ragazzi ho un problema riflesso son calutti quella c'è un tank eccolo è caduto come cazzo si arrampica si arrampica si arrampica si arrampica si arrampica ce l'ho io il tank ragazzi se riuscite a tirare su quel bidone lì eh ah ce ne son due no c'è in testa dal jockey arrivo arrivo morto del tutto c'è il mio corpo si è trovato un defibrillatore venito no però trovato uno mollo quanto manca no 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 un tank porca merda che cosa come mi ha colpito è un pirla si vabbè questo sarà peggio di tarzan è morto buono buono dai su questo non c'è un cazzo di defibrillatore mi ricordo me lo ricordo assolutamente forse era smoker 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 aiuto fanno impiccando luca aiuto solo io lo posso impiccare dai è morto luca tiratemi su e corriamo corriamo si lasciatelo corretti punti giocchi corri 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 jangi corri vai 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 no adesso viene scritto ripcoccio attraverso no non ti fermare corri jangi tu che puoi tu corri bisogna arrivare alla barca vai 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 eh si esatto corri corri attento uff vai vai sali 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 oh madonna oh madonna vero caio no il muore di ferrocco bene ragazzi e questo sembra proprio essere la fine saltiamo per favore i titoli di coda e niente spero che questa serie di video vi sia piaciuta io ringrazio jangi e ferro per essere stati con me in questo video io ci sono sempre e vabbè fammi fare un po' lecchino almeno questa fine e niente nella speranza di rivederli anche in altri video vabbè purtroppo ferro ve lo beccate sempre quindi non ci fate niente ci vediamo al prossimo video bello bello